Anche facendo l'insegnante, si è davanti a qualcuno che ti giudica. Ho un modo di stare che sembra distratto, non lo so, magari credono che io guardi altrove, ma ho già visto che non c'è nessuno con la cravatta, e mi piace tanto. Io ti ringrazio, ho veramente la cravatta fobia, ad Arzegnano però credono che fobia sia magia. Infatti fermavano sempre mia mamma e dicevano, ma Pepin è la fobia della musica? E mia mamma diceva, mia mamma era milanese, e diceva, no Pepin è la passione per la musica. Sì, sì, una gran fobia, ecco perché oggi si usa fobia, e ad Arzegnano dicono, io ho la cravatta fobia. E sono felice di trovarmi davanti a questo modo di vestire libero, libero, non omologato.